buongiorno e buona pasqua da Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra vinco quasi sempre e quasi che mi frega direzione Passo dei Due Santi al confine Emilia Toscana per attivazione Sota o del Monte Colombo o del Monte Favei sono uno a fianco all'altro quindi decido un po cosa fare all'ultimo minuto all'ultimo secondo percorrendo la strada forestale sterrata in salita appunto verso il Passo dei Due Santi spero di sentirvi 73 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Arrivi fortissimo! Ti ringrazio Claudio referenza Sota Italia Tango Oscar 017 QSL Roger Roger Italia Tango Oscar 017 Monte Favei e sono in zona 5 e mi sono permesso di svalicare ok e buona Pasquetta e mangia poco Giappan Kilo Kilo avanti Oh te ringrazio Francia 5 Giappan Kilo Kilo 5 e 9 referenza Italia Tango Oscar 017 QSL Roger Sierra 5 e Sierra 5 e Sierra 5 e Sierra 5 e India Lima Foxtrot 5 e 9 referenza E' buona Pasqua 5 e 7 5 e 7 thank you bye 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 my friend thank you to you bye bye Roger Echo Alpha 2 Delta Tango Echo Alpha 2 Delta Tango ciao Manuel buona Pasqua Manuel 5 e 9 QSL grazie a te manuel ciao 73 qr z italia november 3 alfa delta florida 59 qsl ciao 73 buona pasqua qr z alfa 5 kg over roger my friend eco alfa 5 kg is correct roger summit to summit summit to summit over oscar ecco tre germany germany sierra 59 qsl india uniforme 1 completami il colla grazie roger italia uniforme 1 kg golf sierra 59 qsl e buona pasqua roger eco alfa 1 delta complete your call thank you del poo hotel bravo del poo hotel bravo del wow i want to sierra over sierra waver sierra victor 2 oscar x-ray sierra sierra victor tu oscar sierra victor tu oscar sierra roger sierra victor chu oscar x-ray sierra 59 qsl avanti il summit to summit che forse stavolta ce la facciamo oh perfettamente Italia Università 3 Quebec Eco Zulu 5,9 e 5,9 reali QSL QSL anche per te Alessandro 5,9 reali la mia referenza è India Victor Eco 2,0,1 sono anche sulla referenza del diploma Radio Storia se vuoi ti passo anche quella QSL Ciao Alessandro, Italia Chilo 2, Lima Eco Yankee, portabile Italia Chilo 2, Lima Eco Yankee, portabile Ciao Ti ringrazio Italia Chilo 2, Lima Eco Yankee, grazie Ah Roger Roger, Charlie Tango 2, Golf Sierra November, Charlie Tango 2, Golf Sierra November Grazie, ti ringrazio, no ti cedevo volentieri il posto se volevi provare a fare il collega Charlie Tango Grazie ancora, ciao, buona giornata, buona Pasquetta Ciao, grazie Alessandro, buona giornata e buona Pasquetta, grazie per il summit to summit Eco Alfa 2 Delta Tango Oh, ciao Manuel, ti becco anche in 20 metri, Eco Alfa 2 Delta Tango, 5,9 Sì, molto meglio qua, Eco Alfa 2 Delta Tango, grazie per il 5,9 5,5 per te Eco Alfa 2 Delta Tango, saluti, un abbraccio Un abbraccio Manuel, sempre presente, grazie ancora, ciao Ciao Alessandro, un abbraccio Eco Alfa 3, Eco Victor Lima, 5,9 Buona giornata, Eco Alfa 3, Eco Victor Lima, 5,9 Buona giornata, bye 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 bye, grazie Happy Easter, bye Sierra Papa 8, Quebec Portable Sierra Papa 8, Quebec Charlie, Stroke Portable 5,9 Quessel My reference Italy Tango Oscar 0,1,7 I repeat Italy Tango Oscar 0,1,7 Quessel Bye Tango Oscar 0,1,7 Roger 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 Roger, 2, Eco Zero, Eco Sugar Yankee, 5,9 Quessel Roger, thank you my friend, reference SOTA Italy Tango Oscar 0,1,7 Allora, in discesa da Montefa Bay Italia Tango Oscar 0,1,7 E' stata bene che avevo avevo l'antenna di banda 40-20 metri perché in 40 metri un bordello non riuscivi a trovare una fetta libera per fare la chiamata. Caldo Sole Mi abbronzo E faccio vitamina D Allora, ringrazio chi ha avuto la pazienza di tirarmi fuori dal QRM E 73 e buona Pasqua Da Italia Zulu 4 Victor Quebec Seattle Vinco quasi sempre E il quasi che mi frega 73 E il quasi che mi frega